Bentornati amici investitori, oggi doveva uscire tutt'altro video, però qui queste banche continuano a combinarne di tutti i colori, quindi ho dovuto fare assolutamente un video su Credit Suisse. Quindi nei prossimi video mi vedrete con capelli più lunghi, più corti, set diverso, pazienza, però ci stava veramente perché anche questa è abbastanza importante. Credit Suisse, banca fondata nel 1856, il simbolo della banca svizzera, un franchise che gestiva qualcosa come 1500 miliardi di dollari in tutto il mondo, soldi della gente ricca. Una banca considerata l'emblema della solidità bancaria svizzera si ritrova in grossissime difficoltà, praticamente al collasso. Sostanzialmente io credo che non vedremo più Credit Suisse nella sua forma attuale, ma ci saranno sicuramente dei mutamenti perché sono arrivati a spingersi troppo in là. Ecco allora in questo video vediamo che cos'è Credit Suisse, come sono arrivati a questa situazione e che cosa ne sarà e diciamo che quali potrebbero essere le conseguenze oltre che per Credit Suisse anche per il resto del sistema finanziario. Se vi piace il video, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, io sono Alessandro Lazzaro, cominciamo! Allora, Credit Suisse è una delle due banche più importanti in Svizzera, assieme ad UBS. È considerata proprio un'istituzione, cioè Credit Suisse significa credito svizzero e infatti incarna l'emblema della banca svizzera. Come ci immaginiamo una banca svizzera, una banca stabile, una banca che non ci dà sorprese, a cui possiamo affidare i nostri soldi e possiamo dormire sonni tranquilli che oggi ci sono e domani pure. Bene, questo è quello che pensano i ricchi del mondo e infatti appunto Credit Suisse ha costruito un franchise nel suo business principale, nel suo core business che è appunto il wealth management, gestione patrimoniale, che appunto gestisce qualcosa come 1500 miliardi di dollari in tutto il mondo. Veramente una cifra importante, un bel business, molto stabile e onestamente anche abbastanza palloso e i cui clienti vogliono che sia così. Ok? Fatto sta, come spesso succede, un business molto bello, però anche un po' palloso, ogni tanto ha bisogno di un po' di brio. Credit Suisse, diversi decenni fa, si era imbarcata in una serie di acquisizioni di cui la più importante era stata quella di First Boston. First Boston, per gli appassionati di finanza, probabilmente dice qualcosa. First Boston viene descritta nel libro Barbarians at the Gate, era una delle banche di investimento più dinamiche in America negli anni 70 e 80 e viene acquisita appunto da Credit Suisse nel 1988. Da lì in poi, ok, Credit Suisse ha due anime. Ha l'anima pallosa, se vogliamo così, svizzera di wealth management, che ha bisogno di grande stabilità e grande discrezione e ha invece l'anima dinamica della banca di investimento americana, ok? First Boston, che era diventata Credit Suisse First Boston. Ora, per tanto tempo, queste due realtà convivono abbastanza bene, tant'è che Credit Suisse arriva alla crisi del 2008, tutto sommato abbastanza intatta, non ha bisogno di un bailout, è UBS ad avere bisogno di un bailout, ma UBS, a differenza di Credit Suisse, ci vede giusto, perché negli anni a seguire abbandona la parte di investment banking e si concentra su quello che sa fare bene, wealth management, ok? Investment banking che era diventato più difficile, ovviamente dopo tutto quello che avevano combinato negli anni prima della crisi, wealth management invece è molto più semplice, che capitalizza nella posizione della Svizzera come, diciamo, paese stabile per eccellenza nel mondo e nella ricchezza, ok? Diciamo, nell'esplosione della ricchezza ad alti livelli, soprattutto nei mercati emergenti, che quindi vengono a paesi instabili dove li mettono in Svizzera o comunque presso le banche svizzere, nei vari centri finanziari come Singapore, in Asia, eccetera, eccetera. Ora, il problema di Credit Suisse che appunto non ha abbandonato la parte di investment banking e questa negli anni porta a una serie di problemi. Intanto Credit Suisse va incontro a una serie di multe, sanzioni di vario tipo, brancolando nel buio cerca di ristrutturarsi e nella ristrutturazione in realtà fa anche di peggio, perché, diciamo, cambia una serie di CEO, top manager, che vanno e che vengono in modo molto rocambolesco. Addirittura un CEO, Tijan Tiem, viene chiamato a delle diatribe con un suo sottoposto e vengono fuori delle scene da film, per cui, non lo so, fa spiare questo suo subordinato. Si parla di scene tipo inseguimenti in macchina in centro a Zurigo, delle cose da film thriller che ovviamente sono assolutamente fuori posto in Svizzera e quindi deve lasciare. Devono lasciare anche altri CEO con un'altra cultura che non si integrano nel modo di pensare svizzero. Il problema è però che quindi questa tensione tra la parte di wealth management svizzera e di investment banking americana più dinamica cresce, cresce, cresce. In questo cambio di CEO probabilmente si perde sempre di più il controllo di cosa fa uno e cosa fa l'altro e quando questo succede nelle banche il disastro è assicurato. Tant'è che gli scandali passano appunto da essere sanzioni, multe a problemi di governance a essere proprio problemi finanziari. Due in particolari, lo scandalo Greensill. Greensill faceva capo a un finanziere australiano che aveva inventato, secondo lui, un metodo rivoluzionario per finanziare la supply chain delle piccole e medie imprese, la supply chain finance, crea dei fondi in cui il Credit Suisse convince i suoi clienti a investire e si rivelano non soltanto scadenti ma addirittura una truffa. In tanti perdono tanti soldi e ovviamente abbastanza gli girano, no? Anche perché stiamo parlando di gente ricca, gente potente. Quindi l'immagine di Credit Suisse già, come si può dire, danneggiata da anni di multe, scandali interni, eccetera, comincia proprio a essere danneggiata nel suo core business, quindi nella sua capacità finanziaria. E il disastro arriva nel 2021 con il fallimento di Archegos. Archegos era il family office di Bill Quang, Bill Quang che era un allievo addirittura di Julian Robertson, un grandissimo hedge fund manager degli anni 80 e 90. Aveva accumulato un patrimonio da 10 miliardi di dollari nel suo family office e cosa fa se lo sputtana? Incredibile lo so, è una cosa impressionante, ma quest'uomo si è sputtanato 10 miliardi di dollari con delle speculazioni senza senso su pochi titoli con una leva spaventosa. È collassato ed è ovviamente andato al diavolo, però il problema di quando si investe a leva a questi livelli è che non soltanto va al diavolo chi mette il capitale, ma spesso può andare al diavolo anche chi mette il debito, quindi chi presta soldi. E tra le tante banche che hanno prestato soldi a Bill Quang, chi ci ha perso di più? Credit Suisse che ha perso la bellezza di 5 miliardi e mezzo di dollari in una sola operazione. E dai, e dai, e dai, si sono cominciate a porre delle domande sulla stabilità di Credit Suisse. Quindi il marchio che viene danneggiato, la posizione finanziaria sempre più precaria, perché da un lato perde clienti, dall'altro lato continua ad assorbire perdite. Cosa ne facciamo di questa banca? Credit Suisse cerca di raccogliere capitale due volte, una volta alcuni anni fa, e ci riesce abbastanza bene, la seconda volta l'anno scorso, se vi ricordate c'era stato un bel po' di maretta attorno all'aumento di capitale di Credit Suisse, erano intervenuti gli arabi del fondo sovrano dell'Arabia Saudita che avevano supportato l'aumento di capitale, per cui alla fine era andato in porto. Sembrava che le cose si dovessero stabilizzare e invece ne succedono di nuove. Di recente c'è stato, diciamo, un altro scandalo, se vogliamo, cioè il fatto che Credit Suisse ha dovuto dilazionare la pubblicazione dell'ultimo bilancio a seguito di una richiesta da parte della SEC, the Securities and Exchange Commission, l'ente regolatore dei mercati finanziari americano. E questo è un bruttissimo segno per una banca, perché voi sapete che nonostante tutti i sistemi di controllo del rischio, eccetera, di oggi, una banca vive di fiducia, ok? Nel momento in cui una banca perde la fiducia è andata, e tu non sai mai al 100% quello che succede in una banca, perché è troppo complessa e dipende troppo dalla cultura aziendale, cioè dall'attitudine che hanno, ovviamente, le persone che ci lavorano. Nonostante tutte le innovazioni finanziarie possibili, immaginabili, siamo sempre agli stessi problemi che sono sempre stati riguardo alle banche, perché dipende dalle persone, dipende da che cosa fanno. E se perdi la fiducia in una banca, nelle persone che compongono una banca, quella banca non vale più nulla. Un'altra cosa che ha fatto, secondo me, storcere il naso è stata che è stato assunto un nuovo top manager per la divisione Investment Banking, Michael Klein. Per assumerlo, questo si è fatto comprare la sua, diciamo, casa di investimento boutique, per cui Credit Suisse ha dovuto spendere 200 milioni di dollari. Ora, è di buon gusto per una società che sta facendo fatica, che ha dovuto chiedere soldi più volte ai suoi azionisti, tra l'altro diluendoli parecchio, specialmente nell'ultima tornata, andare a spendere tutti quei soldi per avere una persona. Non c'era nessun altro che si poteva trovare. Secondo me è stata una cosa di cattivo gusto. Guarda caso, il fondo sovrano dell'arrivo saudita, che cosa ha detto? Non mettiamo più un euro, ok? Credit Suisse deve trovare i soldi per ristrutturarsi da sola. E questo, ovviamente, è stato ciò che ha causato il crollo di qualche giorno fa. Ok? Quindi questo per riassumere la situazione di Credit Suisse. Che cosa è probabile che succeda? Allora, è già intervenuta la Banca Centrale Svizzera, ero sicuro che sarebbe intervenuta, perché la Svizzera non si può permettere il crollo di una istituzione, che è appunto l'emblema del sistema bancario svizzero come Credit Suisse. Non si può permettere una cosa del genere. Altrimenti sorgono dubbi anche sull'intero sistema bancario svizzero. Quindi la Banca Centrale Svizzera interviene per fornire liquidità a Credit Suisse, ok? E quindi ovviamente evitare una corsa agli sportelli, che sarebbe drammatico e appunto una figuraccia per l'intero paese. Però, una volta che si interviene, anche qua, Credit Suisse dovrà trovare una sua forma. Ora, Credit Suisse sta cercando di ristrutturarsi da anni, ma sembra che, per quanto dica, non ci riesca. Quello che mi aspetto è che tra la Banca Centrale Svizzera, in Svizzera per quanto riguarda la parte di Wealth Management, e la SEC in America per quanto riguarda la parte di Investment Banking, se non addirittura la Fed, vadano a vedere cosa c'è realmente dentro Credit Suisse e, diciamo, questa ristrutturazione venga a questo punto fatta forzatamente, un po' da dentro, un po' da fuori. Quindi non mi aspetto che Credit Suisse continui ad andare avanti così com'è, sicuramente sarà ristrutturata con le buone o con le cattive, sembra adesso con le cattive, tuttavia non mi aspetto neanche che avvenga un crollo, come si può dire, scomposto, ok? Un po' per l'intervento del regolatore e un po' anche per il tipo di business di Credit Suisse. Era un po' come su SvB, no? Vi ricordate? Cioè comunque una clientela molto specifica, una funzione molto circoscritta, per cui non stiamo parlando di una banca commerciale che dà credito a migliaia di imprese oppure che appunto dà il mutuo e gestisce i risparmi di migliaia, se non milioni, di famiglie. Stiamo parlando comunque di un qualcosa che è ovviamente delle grandi masse, ma limitate a un tipo specifico di clientela che in qualche modo se la può cavare. Ecco, quindi non penso che ci sarà un fallout, che ci sarà un contagio da Credit Suisse al resto del sistema bancario europeo, se non mondiale. Ovviamente questo non si può sapere con certezza, dipenderà da cosa si trova realmente dentro a Credit Suisse, da come avviene questa ristrutturazione e ovviamente anche da come agiscono i regolatori. Però insomma tra Svizzera e America dovrebbero sapere quello che fanno. Ecco, se si vuole commentare, è pazzesco di come un ottimo business, un franchise incredibile che aveva una rendita invidiabile sia andato a complicarsi così tanto la vita. Però questo è un classico, questo è un classico, business molto belli, pallosi, che stufano e quindi bisogna andare a cercare qualcosa di più eccitante. Spesso questo qualcosa di più eccitante, però non è detto che abbia senso dal punto di vista finanziario. Quindi queste erano le mie considerazioni su Credit Suisse. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se state cercando un metodo di investimento a lungo termine, lontano da tutte queste magagne che succedono nel sistema finanziario, un metodo per essere investiti davvero, per capire cosa vuol dire investire a lungo termine, andate a vedere la pagina del mio videocorso Accumere Capitale di cui trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono Alessandro Lazzaro e noi ci vediamo nel prossimo video.